Quello che è successo è una cosa scioccante ed è brutto vedere questa situazione. Noi che lavoriamo tutti i giorni, di questo fatto così ci spaventa un po' anche a venire lavorare. L'incidente è alle 6.30 del mattino all'interno del magazzino di logistica Number One a Parma. Il via vai di camion è continuo per il carico e scarico merci. Sta facendo manovra, l'uomo alla guida di questa motrice non si accorge di un autista che attraversa a piedi il piazzale e lo travolge. Troppo gravi le ferite, l'uomo muore nonostante l'intervento tempestivo dei medici del 118. Sul posto la polizia scientifica e la medicina del lavoro da accertare, dinamica e responsabilità. Non lo conoscevo, però mi dispiace, una famiglia ha perso il padre, una persona ha perso la vita per mancanza di sicurezza. Andrea Granata, 67 anni, di Napoli, autotrasportatore a contratto. Sarebbe sceso dal suo camion per consegnare dei documenti in portineria quando è stato investito dalla motrice. Bisogna migliorare quantomeno l'illuminazione e i percorsi di sicurezza, magari separarli da quelli di ingresso dei mezzi. Il cordoglio degli operai è lo stop di due ore dal lavoro su ogni turno della giornata per affrontare la questione sicurezza. Da tempo le organizzazioni sindacali chiedono maggiori investimenti a tutela dei lavoratori. C'è bisogno in maniera molto banale di attenzione e di risorse rispetto al tema della sicurezza. Spesso diventa la prima voce di taglio rispetto alle risorse messe in campo delle aziende. Flavio Iserni a SkyTG24 Parma.